Ma ha ancora senso un oggetto così? Sigla! Eccomi qui a parlarvi di uno dei miei ultimi acquisti, un iPod di settima generazione da 32GB. Come mi son trovato? A chi potrebbe servire? A chi no? Ha o no senso? Ma soprattutto, perché devo pagare tanto la mia assicurazione? No, qual è nata cosa? Detto ciò, la risposta a questi dubbi in questo video, tranne quello sull'assicurazione. Quello non lo capirò mai. Comunque, eccolo qua, il piccolino. Non so perché, ma me lo aspettavo molto, molto più grande. Sarà il design all'iPhone 7 ad avermi fregato, ma questo cosino è davvero piccolo. Più piccolo dell'iPhone 12 mini che vi faccio vedere qua accanto. Questa è la differenza di dimensioni tra iPhone 12 mini e iPod di settima generazione. E questo è con il Samsung Galaxy S21. C'è una bella differenza. Soprattutto l'iPhone, l'iPod di settima generazione è nettamente più sottile. Portabile come pochi, ma parliamo prima dell'estetica. Frontalmente troviamo lo schermo e fino a qui, grazie al cazzo. Tasto centrale alla iPhone 7 e simili. Non ha il touch ID e qui troviamo la fotocamera frontale. Sui lati abbiamo solo i tasti per il bilanciamento del volume sulla sinistra. Niente selettore di notifiche e nient'altro. Sul lato destro non troviamo assolutamente nulla. Superiormente tasto di sblocco e blocco del dispositivo. Inferiormente abbiamo la vera ciccia perché troviamo il ormai sparito jack delle cuffie. L'attacco lighting e l'alto parlante. Infine, posteriormente la fotocamera singola, flash LED e sto coso nero qui che non so minimamente a cosa possa servire. L'iPod, come dicevo prima, è davvero piccolo. Misura solo 123,4 x 58,6 x 6,1 mm. Per un peso di soli 88 grammi. Non pesa nulla. Se lo tirate in faccia a qualcuno non gli farete nulla. Non fatelo a casa. Mi raccomando, non mi assumo responsabilità di iPod lanciati in testa alle persone. Davvero minuscolo e leggero, ultra portatile e questa feature servirà più tardi. Come metodo di sblocco abbiamo solo i classici codici eccetera eccetera. Quelle cose lì classiche. Niente Touch ID, niente Face ID figuriamoci. Ma peccato per lo sblocco mancante con l'impronta. L'avrebbero potuto mettere visto il prezzo e anche questo torneremo più tardi. Ma eccolo qua sbloccato e diamo un'occhiata allo schermo. 4 pollici. Come sembra piccolo oggi e pensare che i Nify Top Gamma avevano questa grandezza di display. O poco più come l'HTC Sensation che arrivava a 4.3 pollici. Ammazza se son vecchio. Schermo con risoluzione di 1136x640 pixel, 326 ppi. Buona la qualità di video. Oltre a YouTube però non credo che qualcuno possa utilizzarlo. Peraltro vedere film su questo tipo di dispositivo mi sembra un po' Mh, nè, bah. Vediamo se riesco ad aumentare la luce. Non sono riuscito ad aumentare un gran che è la luce ma speriamo si veda bene. Comunque mettiamo il nostro test video. In pausa mettiamo la qualità massima disponibile. Eccolo qua il display all'opera. Come ho detto è un IPS o forse non ve l'ho ancora detto ma ha una buona qualità pur essendo comunque un IPS come ho appena detto. Sotto il cofano di questa Micro Machine c'è come processore il chip A10 lo stesso che si trova sull'iPhone 7 e 7 Plus che permette a questo dispositivo di essere molto molto fluido. Vi ricordo che sto parlando di un dispositivo di 3 anni di vita con un processore di 6 anni fa e funziona ancora come Dio comanda. Vi farò vedere, che ne so, il climb, giochini leggeri perché ovviamente qui girano benissimo le app di tutti i giorni. Vediamo. Girano benissimo anche i videogame leggeri. Girano benissimo i social. I videogame pesanti. Io ho provato Rome Total War. E se non è pesante quello sul Play Store non so cosa ci sia di pesante. Girava bene un po' scatti ovviamente ma anche qui grazie a cazzo ha un processore di 6 anni fa e gira ancora una meraviglia. Altra piccola chicca? Ve la faccio vedere subito nelle impostazioni. Andiamo in Generali. Info. iOS 15.3.1 Aggiornatissimo. E con questo detto tutto chiudo e passo la linea a qualcun altro. Ciao. Arrivederci. Ah. Eccomi qua. Continuiamo e posso non menzionare la fotocamera che non vuole saperne aprirsi. Eccolo qua. C'è anche la fotocamera. Frontalmente mettiamo qui abbiamo una risoluzione di 1.2 megapixel come potete vedere qui. Questa è quella frontale che permette di girare il video se non sbaglio solo a 720. quindi inutile in quasi tutti i casi. Buona giusto per fare i selfie a cazzo di cane. Cosa diversa per quella posteriore da ben 12 megapixel che ci permette di fare foto più che diniziose. Ovviamente qua vi farò vedere le varie foto fatte con questa fotocamera mentre ero in giro. Facciamone una a Gaetanos. Mettiamolo così. La messa a fuoco. Spero di sì. Ok. Stavo dicendo vi farò vedere le foto e i video girati con questi. I video si fermano comunque al full HD a 30. Nulla di così eclatante ma è un dispositivo non creato per questo scopo. Non è fatto per fare foto da urlo anche se grazie alla compattezza a massimi livelli si potrebbe usare per fare foto velocissime in occasioni che vedremo dopo. Ho street photography senza dar troppo nell'occhio però la qualità avendo anche solo una lente standard boh io la userai pochissimo. La uso pochissimo la fotocamera sull'iPod avendo altri dispositivi quando ho l'iPod in mano. Ma vabbè passiamo ad altro. L'iPod touch non ha spazio per inserire la sim. Cosa inutile. A quel punto uno si comprava un iPhone. Quindi come connessione abbiamo il wifi, il bluetooth e il gps. Le prime due le ho testate e sono ottime. Per il gps non l'ho mai utilizzato inutile direi su un dispositivo del genere. A meno che non è connesso a un tethering con un altro smartphone. Non ha senso il gps. E anche in quel caso che senza avrebbe collegare l'iPod touch a uno smartphone per fare la tethering e usare maps. Uso maps direttamente sullo smartphone e consumo anche meno batteria. Ma vabbè gps per me inutile. Audio. Audio, 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 audio. Finalmente parliamo di un iPod touch e non parliamo di audio. Siamo arrivati a questo punto. Il più importante per un dispositivo del genere. Buono con l'altoparlante. Adesso vi farò vedere. Ovviamente posso usare solo YouTube perché le no copyright song di Spotify sono una fregatura assoluta. ma Spotify fa un po' peggare al cazzo. Andiamo qui. Mettiamo sempre il nostro bello canale. Eccolo qua. Mettiamo... Aspettiamo che carichi ovviamente. Mettiamo questa. Adesso partirà una pubblicità di 15 secondi. Mamma mia. No, prima o poi dovevo fare i video su pubblicità di merda di YouTube. Comunque, buono con l'altoparlante ma ottimo in cuffia. Grazie al cazzo anche in questo caso. Non ho perso il grazie al cazzo che ho detto in questo video. Essendo dato per questo, se non l'aveste fatto bene, sarebbe stato completamente inutile. Adesso ve la faccio sentire. Lo avvicino al microfono. Purtroppo, senza cuffia, ho solo un altro parlante. Però dai, buono. È un dispositivo che avevo usato con le cuffie. È nato per questo. C'è pure il jack. Cuffie. E si va avanti. A go go. Infine, una menzione va anche all'autonomia. Apple dichiarò 40 ore per la riproduzione esclusivamente di audio e 8 ore per la riproduzione di video. Mai raggiunte, ma lo promuovo lo stesso. Ottima autonomia. Lo schermo acceso non lo valuto neanche. Questo dispositivo è stato concepito soprattutto per la riproduzione audio in cuffia. Quindi lo schermo sempre spento. E per quello fa un lavoro alto. Io l'ho utilizzato in un viaggio in treno. Un viaggio di 5 ore e mezza andata, 5 ore e mezza ritorno. Mi è durato tranquillamente. Non mi ricordo a che percentuale ero alla fine del viaggio. Però mi è durato. Non ho avuto bisogno di caricarlo. Le dati sulla batteria non li ho. Il numero di mAh. Ma con una sottilezza così... Essendo una sottiletta... Direi 1800-1800 mAh. Non di più. Ma non lo so. Non è un dato sicuro. Comunque siamo arrivati alla fine. E che dire. Lo consiglio. Ma soprattutto a chi lo consiglio. Porto con dire che non lo consiglio assolutamente a prezzo pieno. I tagli disponibili sono 32GB. Già pochissimi nel 2019 figurarsi ora. 128GB e 256GB. Rispettivamente venduti a 249. 359. 469€. A quei prezzi ora si trovano tantissimi iPhone dall'8 sotto i 200€. Al'iPhone 11 sotto i 500€. Ok perdete la compattezza e il jack ma no. A quel prezzo pieno. Lasciatelo perdere. Io ho il modello da 32GB pagato circa 120-110€. Sono pochi i 32GB. E lo sarebbero anche se non lo utilizzassi esclusivamente come lettore MP3. Quindi quello per il quale è nato. Io ho Spotify con le mie playlist scaricate. Con applicazioni per podcast dove scarico i podcast. Mi metto le cuffie e quando me ne vado in giro ascolto l'iPod. Senza rotture di palle. I giochi che avete visto installati è per provare la fluidità dell'iPod. Ma io di solito non ho giochi installati sull'iPod. A parte il Climb che quello è fighissimo. Quindi se lo trovate usato ad un ottimo prezzo. Come per esempio il 32GB sui 100€. Il 128 sotto i 200€. E il 256 che vabbè ma vi servono davvero 256GB di memoria su un MP3. Comunque il 256 non ve lo consiglio oltre i 300€. Prendetelo. A chi lo consiglio però. iRunner. Compattissimo. Si prende una fascia d'abbraccio e non lo si sente neanche addosso. Così si evita di portare lo smartphone ed essere disturbati o distratti. Stessa cosa vale per chi va in palestra. Stessi identici motivi. Ciclisti. Anche se in quel caso consiglio l'utilizzo di una sola cuffia. Già vedo troppi animali ciclisti che pensano di comandare in strada. Ricordiamoci se hanno pure le cuffie e non sentono un cazzo. A chi viaggia spesso come me lo consiglio. In treno è una meraviglia. In aereo, in nave, qualsiasi viaggio voi facciate. È perfetto. Comodissimo. Compattissimo. A chi va a scuola o a lavoro. Sempre utilizzando mezzi pubblici. E non vuole scaricare la batteria dello smartphone. Magari uno studente ha uno smartphone scrauso. Perché gli hanno comprato ai genitori il telefono da 50€ all'idol. Si prende un iPod. Con il telefono da 50€ dell'idol. Scrive i messaggi su Whatsapp. E fa i balletti su TikTok. Su questo. Ci ascolta la musica per andare a scuola. O bigiare. O uguale. Non bigiate. Non fate la carta. Non è vero. Fate quel cazzo che volete. Pensandoci. Lo consiglio un po' a chiunque non vuole scaricare il proprio smartphone. Sentendo musica, podcast, eccetera. In continuazione. Quindi. Se lo trovate a un buon prezzo. Compratelo. Ve lo consiglio. È un ottimo dispositivo. Ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi. Lasciate un mi piace. Condividete. Oppure iscrivetevi. Non mi piace. E non condividete. Non è vero. Potete mettere il non mi piace. Ma dovete condividere. E iscrivervi. Scherzo al tastino di iscrizione. Che trovate qua. Qua. O qua. O qua. 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 Qua da qualche parte. E qua da qua. Cazzo. Qua. 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 Grazie.